Ha fatto scalpore una nuova colorazione del liceo Grassi a Lecco in pieno centro, il giallo GBG così diciamo denominato dalle diverse generazioni di studenti che lì hanno studiato sta scomparendo a favore di una nuova colorazione composta dal grigio, dal bianco e da diversi toni anche un po' sul rosa. Noi abbiamo contattato Massimo Gianquitto che è il curatore di questo progetto, di fatto è un imprenditore, fa parte del Rotary Club di Merate e di fatto si è occupato dell'ideazione di questo progetto. Buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno ai radioascoltatori. Allora intanto come nasce l'idea di ricolorare i grassi perché non è una cosa banale? No assolutamente, intanto devo dire che questo progetto nasce nel 2019 e questo del grassi nello specifico è la quarta edizione di un progetto dal titolo Arte nelle scuole. Io ho insegnato per oltre 16 anni all'Istituto Europeo di Design e nella fattispecie mi sono occupato, tenevo un corso di arte contemporanea e durante quel corso ho invitato, ho avuto come ospiti molti street artisti o meglio urban artist, tra i quali anche questo che abbiamo coinvolto all'ecco al grassi che è Giorgio Bartocci. Dobbiamo chiarire, è vero che ha suscitato anche commenti poco lusinghieri, alcuni entusiastici, altri critici, ma dobbiamo dire o devo dire che prioritariamente bisogna prima conoscere e lasciare il tempo che anche questo progetto si sedimenti e poi giudicarlo, bisogna conoscere per giudicarlo. Io ho scelto l'artista che avrebbe eseguito il dipinto murale che è Giorgio Bartocci, un artista di chiara fama nazionale e internazionale, diciamo con un solido curriculum vita e con lui, ma non solo con lui, con lui i docenti delle discipline artistiche e gli studenti che sono in questo caso 13 che hanno aderito al progetto abbiamo avviato l'idea, tutta la fase teorica, dapprima una brainstorming, abbiamo definito il tema con loro e poi loro, gli studenti e l'artista hanno iniziato a elaborare dei bozzetti, quindi dalla fase dell'elaborazione dell'idea al concept fino alla fase realizzativa alla quale hanno preso parte anche gli studenti. Perché? Perché questo è un progetto di PCTO, come si dice in linguaggio scolastico, è un progetto didattico formativo che ha una valenza educativa, formare questi giovani o educarli anche al bello, anche alla arte contemporanea che solitamente non viene così trattata nell'ambito dei programmi ministeriali. Il Rotary Club ha avuto non solo quello di Merate, ma anche quello di Lecco Legrigne e anche tanti altri sponsor, imprese del territorio che hanno partecipato. Quindi si è arrivati collegialmente a questa scelta, con queste nuvole colorate, possiamo dire, ma il giallo sparirà del tutto? Questo non è un progetto imposto, non si è deciso in modo autonomo. Tutti i livelli della scuola, quindi dagli studenti, come racconta, studenti, docenti, consigli dei docenti, consigli di istituto, all'interno del GRASSI esiste anche un comitato scientifico di cui faccio parte e poi non dobbiamo dimenticare il vaglio, l'approvazione da parte del comune e della provincia. E anche in questo caso possiamo dire che questo è un progetto esemplare che ha connesso tutte le strutture pubblico e private, perché come dicevo sia la parte pubblica ma anche la parte privata, in una grande armonia. Il risultato è questo. Non è totale, no, perché ovviamente per il momento è parziale. Considerate che questo dipinto occupa 800 metri quadrati, non è la totalità delle superfici che rivestono la facciata dell'edificio. C'è l'idea di proseguire nel progetto. Ecco, noi dobbiamo, i Rotari con questo progetto deve dare là, poi devono continuare gli studenti e la scuola nel corso del tempo, degli anni successivi. Quindi diciamo che le vecchie generazioni hanno avuto il giallo associato al liceo Grassi, le nuove avranno una nuova facciata. Certo, certo. Ecco, nuova facciata che si adegua anche al cambiamento dei tempi, a questa innovazione che si produce anche e soprattutto attraverso l'arte, attraverso la comunicazione. Ecco, una cosa che sottolineerei descrivendo quest'opera è che è vero, è un'opera astratta, ma in questo caso dovremmo usare un altro termine che è appropriato, che usa lo stesso artista. È un'astrazione reversibile. Che cosa vuol dire? Noi sappiamo che esiste da una parte l'astrazione e dall'altra l'affigurazione, come se queste fossero in lotta perenne. Invece non lo è. Un'operazione veramente ricercata, quella dell'artista, ha campionato lo sfondo, le montagne che rappresentano anche l'immagine di Lecco, il resegone, le crigne, le nuvole, il lago. Ecco, tutti questi elementi, anche se in forma stilizzata, sono rappresentati in questo murales. Quindi questo è un murale, è un dipinto che intrattiene dei rapporti anche col contesto. Non è pura astrazione. Allora, grazie a Massimo Gianquitto. Ne riparleremo magari più avanti e anche più approfonditamente. Per ora il risultato è lì da vedere. Fateci sapere anche se vi piace o se preferivate il vecchio giallo. La discussione è aperta, ma sicuramente le nuove generazioni potranno apprezzare questa facciata. Buona giornata Massimo, ci vediamo presto. Buona giornata a voi.